Consulenze psicologiche online gratuite per tutti i cittadini dai 14 anni in su. È la nuova iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale di Capannori per stare al fianco delle persone che stanno vivendo situazioni di difficoltà a livello personale, in particolare adolescenti e giovani. Si chiama Lo Psicologo Risponde ed è uno sportello online che può diventare in presenza se necessario, realizzato in collaborazione con l'ASL Toscana Nord-Ovest. Si tratta di un servizio fortemente voluto dal sindaco Luca Menesini. Per favorire il benessere delle persone non bastano più le politiche sul territorio, ha spiegato il sindaco, ma serve anche la realizzazione di un supporto a livello psicologico. Il nuovo servizio, che prenderà il via la prossima settimana, è stato presentato in comune oltre che dal primo cittadino di Capannori, dalla responsabile dei servizi multiprofessionali comunali Maria Giulia Mannocci e da Elisa Pierallini ed Irene Patassini, psicologhe del comune. Capannori infatti è uno dei primi comuni d'Italia ad aver assunto nell'organico dell'ente due psicologi che adesso, oltre al lavoro che svolgono nel settore sociale, saranno a disposizione di adolescenti, giovani e meno giovani, che vivono situazioni personali difficili. Si può entrare in contatto con gli psicologi tramite mail o telegram.